Ciao a tutti ragazzi sono Gianni che restiamo su Fer1 in questo piccolissimo video che tutti avrà quasi niente Per dirvi che adesso è sulla Nox Videogame Community C'è la community dove sto facendo questo video di Fer Cosa farà più avanti? Adesso cosa farò più avanti? Non tutti perché gli altri mi odiano in questo senso Allora ragazzi io farò un gameplay di Call of Duty 1 Che mi sono andato a pigliare a pochissimi 2 euro, 3 euro da un mio amico Dato che il mio pc lo supporterà molto bene, molto bene Iniziamo il gameplay, un topo di merda Il gameplay, il gameplay, il gameplay, il gameplay Allora, qui siamo su Fer1 in compagnia di la bambina indemoniata che ti insegue Là c'è un tizio, cerco di aggirarlo di qua Non si va di qua Si va di qua Va di qua Si salta Di qua non si va Di qua mi appare il zombie davanti Oh 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 un tizio, un tizio, un tizio, un tizio, un tizio Non ci farà passarmi Oh è scomparso la parte del tizio Oh mi si è chiesto la parte davanti Oh non ho paura di voi, tutti i zombie Allora 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 Su Call of Duty 1 i gameplay principali saranno ovviamente sempre la campagna al multiplayer Cosa che non ho ancora deciso con Ma che cacchio Ma che cacchio ho fatto Perché sono tornato dietro? Perché sono tornato indietro? Questo tizio starà parlando ma io non ci capisco niente perché ho il volume minimo Se volete ve lo posso alzare di qualche Se si blocca non Date la colpa a me Comunque Non si blocca Oh 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 Perché tutto questo sfogatore che fa la gare Cosa? Era una mia impressione Era una mia impressione Era una mia impressione Che sexy quest'uomo Uh figo Uh figo Uh uh Oh 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 Qua sotto l'ingua Va bene ragazzi Da me è tutto ci vediamo su Call of Duty 1 adesso andiamo a visualizzare che cos'è che cosa ma perché mi apparono mostri davanti perché perché io dico perché più non me ne appaiono tutto è finito vabbè sempre soli pum 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 visualizzare carica di fare molto figa vabbè come è tutto ragazzi ci vediamo perché il video mi ne pensate troppo perché sono con la chiavetta in questo momento mi verrà male all'upload quindi ci vediamo sul calotto di uno ragazzi veramente ci vediamo sul calotto di uno